Ragazzi che figata, siamo in un posto meraviglioso. Ho l'oceano alle mie spalle che è là dietro e sono in questo paese che si chiama Seaside Park dove avevano girato la serie Jersey Shore che probabilmente avrete visto. Sono qui perché mi hanno chiamato per portare il progetto Desideriamo nel mondo e volevo veramente condividere questa cosa con voi e ringraziarvi perché vive grazie attraverso ovviamente la community quindi attraverso voi, attraverso i vostri sogni, attraverso questa sfida che ci siamo creati insieme di dimostrare che in Italia ci sono un sacco di persone che hanno voglia di fare qualcosa di buono di non mollare, di non mollare nei loro sogni, di darsi una mano gli uni con gli altri. Come funziona? Funziona che tu scrivi un desiderio, io ti rispondo e magari ti posso dare una mano magari lo può fare qualcun altro, magari lo fa la mia redazione perché ormai stiamo crescendo, siamo veramente in tantissimi e magari tu puoi entrare nel sogno di qualcun altro e io posso entrare nel tuo e tantissimi sogni sono stati realizzati, tantissimi ce ne sono ancora da fare soprattutto adesso il progetto in America è grandissimo cioè arriveremo in un muro che sarà il wish wall, il più grande del mondo dove potrò iscrivere i desideri più belli, quelli più commentati, quelli più commoventi quelli da portare nel mondo in occasione dell'arrivo del Papa a settembre a Filadelfia e quindi volevo condividere con voi questa cosa meravigliosa e dirvi non mollate mai, continuate a scrivere su Desideriamo e a condividere veramente la bellezza di questa community vi voglio bene, baci dall'America, alla Sì Ciao